io voglio ammazzare tutti voglio ammazzare, voglio ammazzare tutti è bello ragazzi sono Batman oggi siamo su Hitman 2 sono confuso con The Adoressing 4 però va bene oggi stiamo raccogliendo un po' di cose se ce li nascondiamo ho imparato a nascondere sono le emozioni questo gioco si basa che lui è un assassino che deve cedere Calvin non posso anche posso grazie sono in intruso scusate scendo subito scusate mi sta inseguendo e me ne vado me ne vado me ne vado me ne vado da buono diciamo che questo non è proprio un assassino cioè allora apriamo un attacchino allora no aspetta meglio di no andiamo per qua perché ho paura e poi le guardie ci possono vedere ok vai 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 ovviamente non lo uccidiamo lo abbiamo fatto solo svegliere poi si riprenderà cioè qua c'è scritto spezza il collo ma non lo faccio perché non si deve fare ok e pregamente lo mettiamo non lo nascondiamo qua ok ah ok così è per ok comunque alcune ci possono ci possono riconoscere tipo lui che ci può rinascendere eh sospetto a no 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 dobbiamo dobbiamo andarcene subito dobbiamo andarcene subito ok 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 vediamo questo veneno che fa sempre utile pover il pane ok scusa serve il suo mi serve un pochino il sopravvestimento ok praticamente allora quella guardia è sicuro di conoscere quindi andiamo per qua cioè se tengo la pistola in mano comunque cioè tipo nessuno lo sospetta niente tipo figato però la potremo di sicurezza allora ok andiamo per di qua ok voglio entrare da là vediamo qui c'è ok ok il fuoco mi serve aspetta vediamo se come è ok mi serve il suo travestimento mi spiace ovviamente non lo uccidiamo lo stendiamo solo lo mettiamo qua e ci travestiamo ok avvelniamo questa pentola ok scusatemi mi serve mi serve mi serve mi serve un po' di zucchero c'è un po' di farina c'è un po' di farina ok la preda rossa cioè il colore rosso è la nostra preda possiamo salire grazie allora ok commetizziamoci ehi ti ucciderò e io ti ammazzerò ok dai raga se io lo butto e poi scappo no non sarebbe un'idea no dai no fanno vedere un po' la caduta no posso sopravvivere eh beh io di no perché mi sa che lo sto discosso perché a lui lo dobbiamo proprio uccidere quindi capite no no raga io caccierei fuori la pistola e lo ammazzerei proprio madonna però non ci possiamo far scoprire non possiamo dischiare perché questi uomini potrebbero cacciare le pistole e poi sarà un problema a meno che che potevo prendere quei fucili e ammazzare tutti se ce la facevo c'è il senso che ammazza questo è lui dobbiamo aspettare quando tipo vai in una stanza perché qua non possiamo dischiare sapete una cosa ora io me ne vado e poi ce ne andiamo proprio quando aspettate fatemi vedere prima cosa raga devo vedere se è una cosa salve agenti posso andare qua si se posso andare ah che bel elicottero elicottero e dai ti uccido ti uccido ti uccido ti uccido ti do fastidio ha detto ok ho detto ti uccido ti uccido e ha detto ok cioè raga no non è un agente è una raga scrivetemi sotto nei commenti se è un agente proprio comunque raga scrivete sotto nei commenti il minutaggio di gizun e bu saluto tada ooo 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 e vi saluterò tre di voi trea trea una volta cioè per ora non so salutando nessuno perché per ora cioè non sono famosa e quindi non capite non è se no non mi ha scritto vabbè ok praticamente dovremmo andare qua sì 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 andiamo quasi andiamo per di quasi oh mi è stradotta lo sapevo che ero un intruso allora raga io cioè praticamente andrei di silenziata ucciderei a tutti e due e poi me ne scapperei raga rischiamo rischiamo raga io rischio ok quando non si dirà più quello là con il cappello quando non si dirà più quello con il cappello ok faccio il tipo per me dunque qual è la mia tipo sempre wait is it a glass coater no no it's something word related uh he bought it via just a moment could be your other's name is that a second give me a second it's just on the tip of my tongue ok raga praticamente sono morti tutti e due magari qua magari dico proprio qua lo mettiamo qui no ci mettiamo questo travestimento sexy marogna e possiamo uscire possiamo uscire ok 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 andiamo ma andiamo come di sexy proprio marogna no aspetta ok andiamo proprio come una missione completata anche se beh è una missione completata però ok non abbiamo ucciso nessuno proprio a tre a due a tre ok ancora una volta questa questo sarà quando vorrai quando ti sentirai pronta a procedere o te non vorrai fare altro che chiedere marogna ok continuare l'addestramento spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un pollicione in su e noi ci vediamo al prossimo video se volete continuare ciao